Musica Amici sportivi di Videonola ben ritrovati al Salotto Jack Il nostro angolo di approfondimento dedicato ai tornei che si tengono sotto l'egida del trofeo Jack presso il centro sportivo Maracanã E dopo la regular season per quanto concerne la Serie A si è aperto lo spazio per le Coppe Europee Champions League ed Europa League a catalizzare l'attenzione del principale campo del Maracanã Dopo la prima giornata che è andata agli archivi vediamo attraverso le grafiche l'attuale situazione in Champions League Nel girone A il Trabzonspor ha perso con il Valencia per 7-3 Mentre invece l'Inter ha ragione dell'Arsenal per 11-3 nel girone B Benevento Napoli termina 5-2 Mentre invece Everton contro New Saints 3-2 ne consegue la classifica Che nei due gironi presenta Inter e Valencia Si appaiate al primo posto con 3 punti a far ragione per l'Inter e la differenza reti maggiore Mentre seguono Trabzonspor ed Arsenal Medesima situazione nel girone opposto Benevento e Everton a 3 punti New Saints e Napoli a 0 Torniamo in studio per presentare il nostro caro opinionista E soprattutto la figura che ci fa compagnia anche al Maracanã Oltre che nel salotto Jack Giorgio Lisi ho ben ritrovato Ciao Giandu, un saluto a te e un saluto agli amici a casa È il momento di catalizzare e soprattutto concentrare la nostra attenzione Su questa Champions League che vede sicuramente tante squadre interessanti Ma soprattutto forse le favorite che sono tutte nel girone A Quindi come all'indomani dei sorteggi e delle urne C'è da capire effettivamente questa prima giornata che segnali ci può dare? Sicuramente per quanto riguarda il girone A La situazione è gestita nella prima giornata dai gemelli adinorfi È un'indicazione dal momento che la squadra di Marco ha conquistato lo scudetto La squadra di Matteo è riuscita a raccimolare nelle ultime giornate punti buoni per la qualificazione in Champions League Resta il fatto che nel girone A ci sono squadre veramente molto forti come il Trab Come l'Arsenal che però hanno dovuto cedere il passo alle squadre capitanate dai gemelli adinorfi Mentre per quanto riguarda il girone B Tante sorprese non mi aspettavo la sconfitta del Napoli Né tanto meno quella del Milvoli Infatti credo che alla testa Chi sta guidando il girone B Sono squadre che sono decisamente valevoli Ma che forse partono con qualche passo di ritardo rispetto al Napoli E rispetto al The New Saints Che tanto bene hanno fatto in campionato C'è da dire che le squadre che hanno perso in questa prima giornata Che non evidenzia segni X Sono subito chiamate al riscatto nella seconda giornata In particolare ad esempio il Trab Zospor Ha giocato con capitano Gaetano Jovino fra i pali Per sopperire l'assenza del portiere Mentre il Valenzi invece ha potuto schierare migliori effettivi Infatti Gaetano si è reso protagonista di un Euro goal clamoroso Un palonetto Beffardo che si è insaccato alle spalle di Jovino sul secondo palo Forse queste partite, questi risultati nella prima giornata Porteranno le squadre al riscatto fin da subito Beh, conoscendo Gaetano Jovino Credo proprio che già dalla prossima partita La squadra turca imboccherà la giusta via Per cercare di fare risultato Proprio analizzando il girone A Vediamo che sono quattro squadre molto forti Quindi ogni impegno è come se fosse una finale Dal momento che la qualità nel girone A abbonda Per quanto riguarda il Valenzi Il Valenzi lo conosciamo bene Matteo cura molto i particolari E nel momento in cui Gaetano si è reso disponibile Recuperato dall'infortunio Ha messo la firma su questa sfida Se non sbaglio segnando quattro gol Soprattutto c'è una sfida interessante Anche nel girone B parliamo di Everton e New Saints Concentriamoci dall'Everton che ha vinto questa partita Nei minuti finali Dopo essere stata in svantaggio Proprio quasi a ridosso del recupero Di 2 a 1 contro il New Saints È arrivata questa vittoria Ma l'Everton nella prossima giornata Che già ultimamente non presenta un organico molto folto Dovrà anche fare a meno di Brancato Che è risultato espulso per proteste E quindi per l'Everton alla prossima giornata Nonostante i tre punti Rischia già di mettersi difficile fin da subito Però sono tre punti importanti Questi contro una squadra di New Saints Che ha illuminato la seconda parte Della regular season in Serie A L'Everton invece abbiamo visto come si sia ripreso Da un inizio campionato disastroso Meritando il risultato Il posizionamento in classifica in questa postseason È chiaro che un elemento importante come Brancato Può pesare nell'economia del match Nell'economia di questo gironi all'italiana Composto appunto da queste quattro squadre Ma è chiaro che l'Everton deve rimboccarsi le mani Qualora voglia raggiungere la finale di questa Champions League New Saints che è stata un po' la squadra a sorpresa Come abbiamo detto al termine della regular season Si è piazzata al secondo posto con 31 punti Passo falso in quest'inizio di Champions League Ma nel girone B vista anche la sconfitta del Napoli Diciamo che entra tutto in gioco Perché era difficilmente pronosticabile Che un gruppo solido come quello dei partenopei Uscisse poi sconfitto anche per 5-2 Contro una squadra alla prima esperienza in Champions League Come il Benevento Benevento ha veramente giocato molto bene contro il Napoli Forse i ragazzi del Napoli Non si aspettavano una prestazione così gagliarda Così vogliosa del Benevento Che è sceso in campo in maniera quadrata Affrontando l'avversario a viso aperto Cercando di colpirlo in contropiede Cercare di approfittare delle defianze Della retroguardia partenopea Vi è riuscito il Benevento conquistando 3 punti Grazie a un bel 5-2 È momento di passare dalla Champions all'Europa League Attraverso le grafiche Vediamo la prima giornata che i risultati ha prodotto Per il girone A Acragas contro CSKA Mosca Termina 3-0 Mentre la Roma contro il Mailwall Vince a sua volta per il mondesimo punteggio Nel girone B abbiamo il Lecce Che ha ragione del Novara per 5-3 Mentre Aedux Palato vince 8-4 Con il Manchester United Ne consegue una classifica che vede Nel girone A al primo posto La Roma e l'Acragas Mentre invece nel girone B Ci sono in sequenza Aedux Palato e Lecce Ricordiamo che il Mailwall riceve anche il punto di penalizzazione E quindi si ritroverà a meno 1 A partire diciamo Giorgio Dalla seconda giornata di campionato Anche in questo caso si iniziano a creare Le prime spaccature Ma soprattutto per il Mailwall C'è questa penalizzazione Che rappresenta un peso specifico maggiore Rispetto a chi magari adesso si trova a 0 punti E beh hai detto tutto duggiando È un meno 1 È un handicap importante per il Mailwall Un'altra squadra che ha giocato molto bene il campionato Ha giocato Ha disputato una buona stagione regolare Conquistando poi questa Europa League Se non sbaglio agli spareggi Ha preferito accontentarsi in un certo senso Di questa Europa League Ma seguendo questo ragionamento Non mi sarei mai aspettato Un meno 1 in classifica Contro la Roma Che ha fatto bene nel finale di campionato E ha raggiunto una salvezza tranquilla 3 punti quindi per questa Roma 3 punti anche per l'Akragas Ho visto lo spezzone finale di questa partita Agragas-CSK Musca Posso solo dire che l'Akragas ha meritato questa vittoria Una vittoria arrivata di squadra Dove magari nel corso del campionato Il collettivo classico Il collettivo storico dell'Akragas Poteva essere Come dire Penalizzato dall'andamento Appunto in campionato Ma si sono rimboccati le maniche I ragazzi siculi E hanno raggiunto una bella vittoria Contro una squadra Il CSK Musca Che ha terminato il suo campionato Terzo-ultimo Quindi attenzione Adesso il rischio è serio L'Akragas sicuramente è motivato adesso Perché il girone A Si può dire È un girone alla portata Ma non solo per l'Akragas Per tutte le squadre di questo girone Un girone di difficile pronostico Ma sicuramente questa vittoria per l'Akragas Li ringalluzzisce un po' Così come la Roma L'andamento poi questo girone A Giando sembra quasi scritto Dal momento che queste due squadre A tre punti Possono creare un solco importante Rispetto al CSK Musca È al milo addirittura meno uno Ma poi per quanto riguarda Il girone B Che reputo Il più difficile da pronosticare Sono quattro squadre all'altezza È un po' quello che è successo All'Akragas È successo all'Aidux Palado Ha superato con Il risultato di 8-4 Il Manchester United Che a sua volta Aveva fatto il ragionamento Di scendere in Europa League Per disputare un torneo Tra virgolette All'altezza Secondo i propri giocatori Secondo la propria qualità in campo Ma Ha beccato un Aidux Palado Che vuole dire la sua Quindi La terz'ultima E la quart'ultima Non possono Non devono dormire Sonni tranquilli Diciamo che Se ci insegna qualcosa Questa prima giornata Di Europa League È che i calcoli A tavolino Si fanno magari In qualche altro sport Nel calcio Bisogna sempre giocare Tutte le partite Siano esse Spareggi Che magari possono proiettarti In una categoria superiore A quella che tu Ritieni di poter giocare Perché altrimenti La perde a tavolino Finisce che psicologicamente Subisce un contraccolpo E poi squadre che lottano Veramente con il coltello Fra i denti Per raggiungere Un risultato importante Per la permanenza in Serie A Vedi l'Aidux Palado Che si è presentato Con un ottimo organico Al terreno di gioco E ha vinto 8-4 meritatamente Perché anche il Manchester United Aveva i suoi giocatori in campo C'era Nirollo C'erano Santanello Junior Quindi non è una squadra sprovveduta È stata una vera sfida Di ben altre zone di classifica Rispetto a quella che è stata Per via della regular season Esattamente Quello è il cammino In un campionato delle due squadre Non è stato sicuramente positivo Se si va a vedere Quello che è il roster Delle due squadre Il Manchester United Era partito bene Con quello che è oramai Lo zoccolo duro di questa squadra Rappresentato da patron Santanello Da Santanello Junior Che fino a poche giornate alla fine Si è conteso Il titolo di capocannoniere con Pastore Irollo Che lo conosciamo benissimo Un ottimo calciatore Poi cosa sia successo Sul terreno di gioco Questo non lo so Perché non ho potuto assistere alla sfida Ma so per certo Che Arbonio ha segnato 7 gol Quindi l'ago della bilancia L'ha fatto prendere sicuramente A suo favore Questo Arbonio Che ha spaccato un po' Con la partita Mentre invece In Novara Lecce Due squadre Da uno zoccolo duro Molto forte A ragione quello Dei Salentini 5-3 Il risultato finale Per un Novara Che approccia Con dei giusti pronostici Quest'Europa League Ma intanto Deve fare i conti Con i primi tre punti Persi nel girone Ci sarà sicuramente La possibilità Per il Novara Di dire la sua In questa Europa League Perché lo conosciamo bene La formazione del Gatto Santanello Non è una formazione Di seconda Liga Anzi Forse l'approccio A questa partita Con Lecce Non è stato quello giusto Leggo dal tabellino Gli annelli scatenato È vero Solo due gol per lui Ma tanto lavoro Per la squadra Forse ripeto L'approccio Dei ragazzi Del Novara Non è stato quello giusto Rispetto a un Lecce Che era affamato Che era voglioso Di dire la sua Appunto In questa prima giornata Di Europa League Giorgio tornando Ad Akragas CSK a Mosca Una partita che finisce 3-0 In genere Sono quelle riflettate Poi a tavolino Per la vittoria Di una singola squadra Qua invece 3-0 Partita sul campo Quindi il CSK a Mosca Per 50 minuti Non è riuscito A segnare Il portiere avversario A ponte Qui ci sono più Meriti Da parte della difesa Dell'Akragas O il CSK a Mosca È arrivato alla sfida Un po' spuntato In avanti Eh guarda Magari A malincuore Devo dire Che il CSK a Mosca Dell'amico Giovanni Alferi Non ha raggiunto Con la mentalità giusta Con magari Le forze Psicofisiche Necessarie Per contrastare Un Akragas Che invece Magari Pur sapendo Di essere retrocesso Parlando A termine Della partita Con Fabio Puglione Che tra l'altro È andato anche in gol In questa sfida Fabio mi dice No ma tanto Siamo retrocesso Ho detto Fabio vedi che Adesso tu hai battuto La terz'ultima In classifica Quindi A prescindere Da come finirà Il vostro girone Da come finirà La vostra esperienza In Europa League Avete fatto Un passo in avanti Importante Mettendo nei guai Una squadra Come il CSK Musa Che di guai Ne ha avuto In campionato Anche se Lo sappiamo bene Ha raggiunto la finale Di GK Quindi C'è stato un Akragas Voglioso Che ripeto Ha meritato Ha meritato la vittoria E una vittoria Di squadra Da segno under Ciò significa Che la partita È stata sicuramente tirata Mentre invece Per la Roma Arriva un 3 a 0 Contro il Millwall Ma la vicenda Che riguarda La squadra inglese È extracalcistica Quindi anche Viglionole Soprattutto Va tronca a sese Sui tesserati della Roma Esprimono solidarietà Alla squadra del Millwall Che ha attraversato Un momento particolare Dove magari Si mette anche Da parte Il regolamento Quindi presentarsi Sul campo E si accetta Di buon grado Ciò che è la Giustizia sportiva Perché Giorgio Quando si tratta Di questioni personali Molto importanti A volte anche Il calcio si ferma Vabbè ovvio Questo è chiaro Io anzi Chiedo scusa Ai ragazzi del Millwall Perché adesso Sto entrando In come dire Sto sapendo Sto venendo a sapere Di questa situazione Di una dinamica Che va Oltre il calcio Quindi figurati Non nessuno Può Mettere il Il becco In queste situazioni Qualora i ragazzi Sabinelli Accompani Qualora i ragazzi Avessero avuto La loro motivazione Le loro motivazioni Per una cosa Che va al di là Del terreno di gioco Alziamo le mani Anzi Noi siamo vicini In qualsiasi situazione Anzi Ripeto Mi scuso Perché non sapevo Infatti Mi sembrava troppo strano Che il Millwall Avesse rinunciato Così Una partita così Quindi Aspettiamo Soprattutto perché Ha dimostrato Negli ultimi due anni Di essere una squadra Assolutamente Sì Assolutamente Sì Anche nella prima presenza In campionato In Serie A Nella prima Voglio dire Nell'esordio in Serie A Di questa squadra Una squadra che è andata A giocare sempre Col freddo Con la pioggia Quindi Onore a loro Quindi Mi sembrava troppo strano Che i ragazzi Avessero deciso Di mollare così Quindi Se c'è qualcosa Di importante Dietro Possiamo solamente Unirci A le tue parole Anzi Posso solamente Accodarmi A le tue parole Gianlu Abbiamo completato L'analisi Per quanto riguarda Le coppe europee Qui in studio È il momento Di spostarci Direttamente Al centro sportivo Maracanà Con gli highlights I gol principali Di questa giornata E le interviste I protagonisti La prima giornata Del post-season Regala subito Grandi emozioni Nel girone A Le due formazioni Gemellate Guidano la classifica A punteggio pieno Lasciando intendere Ad una lotta Fratricida Per la conquista Della qualificazione Diretta L'Inter di Marco Strapazza l'Arsenal Il punteggio finale Di 11 a 3 Lascia poco spazio Alle intenzioni Dei Gunners Travolti Dal migliore in campo Pastore E dalle sue 8 Realizzazioni Il Valencia Di Matteo Insegue Grazie alla vittoria Per 7 a 3 Contro il Trab I turchi Possono poco Contro la prestazione Positiva di Gaetano MVP di serata Il girone B Parte nella maniera Meno pronosticata E di conseguenza Con maggiore emozioni Cadono le favorite Tra Benevento E Napoli E Napoli Sono i giallorossi Ad aggiudicarsi I tre punti Grazie al risultato Finale di 5 a 3 Un buon primo tempo Di Marca Sannita E la prestazione Di De Luca Regalano la gioia Al Benevento Del primato momentaneo Dietro in Campani C'è Leverton Nella sfida Contro il The New Saints Sono i Toffis A conquistare la vittoria Una partita equilibrata E decisa Solo nel secondo tempo Grazie anche Alla prestazione Di Alfieri Nella prima giornata Di Europa League Abbiamo assistito Alla rivincita Delle piccole Nel girone A Insieme alla Roma Tre punti Grazie al 3 a 0 A tavolina E danni del Milbo Troviamo l'Akragas I Siculi Penultima forza In campionato Battono 3 a 0 Il CSK Musca Grazie ad una bella Prova di squadra Nel girone B Cadono Novara In Manchester United I piemontesi Dopo un buon primo tempo Sono costretti A capitolare Sotto i colpi Di un Lecce Arrembante Nella ripresa Il finale Di 7 a 5 Lo United Non passa Contro l'Aiduc Lo Spalato Fanalino di coda In campionato Supera gli inglesi Grazie a una bella vittoria Per 8 a 4 Prova convincente Dei colati Con Arbonio Best player di serata In virtù dei 7 gol Messi a segno Siamo con il Benevento Siamo con De Luque Granata Una vittoria All'esordio In Champions League Che cosa chiederei Di più De Luca Il primo passo È andato Va bene così Ci siamo impegnati C'è stato molto impegno Di tutti Grazie anche alla difesa L'altra squadra Era molto competitiva Anzi Il Napoli Non direi Cioè Era meglio Perché le altre squadre Grande che il Napoli Granata Granata Siamo giocati con tutti Siamo giocati con tutti Persino con il Valencia Quindi il Napoli Con il Napoli abbiamo vinto Con l'Arsenal abbiamo vinto Si può dire che abbiamo perso punti Contro quelle che sono finite In Europa League Ma non contro Contro le grandi Quindi la nostra forza Già la conoscevamo E stasera ci mancavano anche Due buoni elementi Per la nostra squadra Che possono fare la differenza Ancora di più Quindi Non ci poniamo limiti Non si può nei limiti Questo benevento De Luca Ma comunque Il girone è ostico Hai detto bene tu Hai messo già Una prima pietra Verso una qualificazione Che magari Battendo il Napoli Sembra più alla portata Si è certo Visto che si passano in tre Già abbiamo conquistato I primi tre punti Poi il resto viene a sé Noi ci mettiamo il nostro Siamo con il Valencia Benzia Matteo Prima partita di Champions Prima vittoria Ma prima di commentare Questi tre punti Una dedica è dovuta Sì la dedica è tutta Per le buff Peppe Mazzocchi Il nostro DS Che è ripartito Per motivi di lavoro Volevamo dedicare La prima vittoria a lui Nella partita inaugurale D'esordio Siamo riusciti I tre punti fondamentali Tutti per te Peppe Da un Mazzocchi all'altro Davide Tre punti importanti Contro l'unica formazione Che in campionato È riuscita a fermare L'intercapolista L'intervincitrice Il Trabzonspor Una vittoria Che non è mai stata In discussione Dal primo all'ultimo minuto Sì abbiamo fatto Una grande partita Anche se i ragazzi Del Trabz Sanno giocati bene Però stasera Ci siamo messi bene In campo E abbiamo vinto Speriamo di andare bene Per proseguire la Champions Quando si sono aperte Quelle urne Matteo Si è commentato A mani basse Questo è il girone Della morte Il girone A Dove si fronteggiano L'abbiamo detto Oltre al Trab Inter E Arsenal Forse le formazioni Più quotate Per la vittoria finale Soprattutto Una sfida Nella sfida Quella tra Inter E Valencia Che forse può essere Il vero spartiacque Di questo girone Eh sì Il Trab Lo ricordiamo È la detentrice Dell'Europa League Poi ha Due Champions Tre il Valencia Quindi cinque Champions In due squadre Questa sera In campo L'Arsena L'altra squadra L'unica squadra Che ha battuto L'Inter In campionato Quindi sono Tre squadre Fortissime L'Inter La favorita Però noi Lo dobbiamo prendere Proprio così Perché i miei uomini Adesso Devono dimostrare Chi sono Siamo il Valencia E abbiamo fatto male Questa stagione Tra alti e bassi Tanti problemi Di organico Anche All'interno Dello spogliatoio Ma voglio ringraziare Quelli che non mi hanno abbandonato Sono ancora qui A metterci la faccia Come testa Mazzocchi Che è tornato Peluso Anche Il porterone Nappo Che è ritornato Alla base Quella maglia Del Valencia L'ha Gettata Più volte Però Non è riuscito A abbandonarmi Nemmeno questa volta E si è messo Tra i pali Nonostante la forma Un infortunio A pochi minuti Dall'inizio Voglio ringraziare tutti Dall'inizio Dal primo all'ultimo Perché Per il momento Non siamo una squadra Dobbiamo ancora diventare Una squadra Ma se ci impegniamo Come stasera Possiamo Cercare di portare a casa La quarta Champions Davide Tu da giocatore Forse Il primo pensiero È vindicare Quella brutta sconfitta In campionato Partita contro l'Inter Che è la tua ex squadra Sì Una brutta sconfitta Però Secondo me L'Inter è sempre favorita Per il titolo Della Champions Però noi ce la giocheremo Come abbiamo fatto l'anno scorso Non avevamo favoriti Abbiamo vinto lo stesso Quest'anno sarà la stessa cosa Partiamo da sfavoriti Però ce la giochiamo lo stesso Hai detto tu Matteo Mancano giocatori importanti Tra cui Bomber Iovino Da recuperare Ma Un recupero importante È stato quello di Gaetano Che oggi Ha già Tracciato la differenza Eh sì Hai detto bene Un grande recupero Questo Ci sono anche altre persone Fuori Rosa Che c'è Ancora Non sono ancora Venute a giocare Indisponibili Poi c'è Iovino Che Non lo so Anche lui Non è Ha avuto qualche problema Non è al meglio Non so se vuole continuare Con il Valencia Io Comunque Ringrazio I miei uomini Ripeto Quelli che ci sono sul campo Chi vuole venire Che il Rosa A darci una mano È ben accetto Tutti e 12 Ma noi comunque Fino alla fine Lotteremo Da sfavorite Perché l'Inter È la favorita Ripeto Perché è più squadra Per il momento Ma il Valencia È sempre la La squadra Detentrice del titolo Ricordiamo che Gli ultimi due anni L'ha vinta L'ha vinta Lella Champions Quindi Ci riproveremo ancora Siamo qui con L'Akagas Che ha vinto La prima partita Di Europa League Contro il CSK Mosca Che è stata Diretta avversaria Per lungo tempo Del campionato Vi siete Contesi la salvezza Alla fine L'Akagas Che è scesa In Serie B Si deve sempre vedere Se vincerà L'Europa League Però stasera Avete vinto Il match Il match Forse più atteso Del girone Nello scontro Ripeto Diciamo che oggi Abbiamo fatto capire Che anche se abbiamo Ved processo Con la matematica Del campionato Non siamo noi Gli ultimi Arrivati Gli ultimi A subire Tutto questo De Jack Ci siamo Sacrificati Oggi Purtroppo Oggi veramente Al completo Tutto il campionato Può essere una bugia Non lo so Se si vede dai video Non siamo stati mai Al completo Finalmente al completo Quest'Akagas Adesso può dire La sua In questo girone Ma soprattutto Per tutta l'Europa League Ci credete A vincere e rimanere In questo campo Noi Non puntiamo a nulla Noi cerchiamo di fare Ogni partita Il nostro meglio Come ha detto Il nostro capitano Enzo Siamo stati un po' Arronzati In questo campionato Per cui Molte assenze Oggi Come Datele molte presenze Abbiamo iniziato un poco A gestirci un po' Medio Anche tramite i cambi Il ritorno Del Vasei Baby Oltre questa squadra Chi temete Chi potete temere Dell'Europa League Chi è che vi potrebbe Rompere le uova Nel paniere Tutti In realtà Perché noi non abbiamo Ti ho detto Di rompere le uova Nel paniere Ma noi non abbiamo Ambizione di vittoria Dell'Europa League Qualora venisse Ben venga Perché riusciamo a salvarci Però è chiaro Ci sono squadre Che sono molto più Organizzate di noi Noi cercheremo Di dare il meglio E poi vedremo Dove arriviamo Alle nostre spalle C'è Duke Manchester Chi temete le due Penso che Lo United Tecnicamente Sia una spanna Sopra Però Ogni partita Poi ha storia a sé La Duke La Duke è finita È finita a meno cinque O meno quattro Si può salvare Secondo te Con la vittoria Dell'Europa League Sì Se vinceva È proprio Perché non si può salvare Tutti si possono salvare Io penso che Rai Duke Quello che ha dimostrato Panno scorso Rispetto a quest'anno È stato un po' Meno Però Penso che Era una buona squadra Anche essa E Questo campionato È andato così Ci facciamo Per il prossimo Buca al lupo Anche a voi Siamo qui con Antonio Vecchione A Duke Spalato Quest'anno è la prima volta Che l'A Duke È qui ai microfoni Del Trofeo Jack Prima vittoria Cosa forse Storica Storica La prima vittoria Arriva in Europa League L'arrivo in Europa League Un'altra faccia Questa squadra Sicuramente Sì Comunque Dopo Delle prestazioni Il campionato Non abbiamo vinto Una partita Abbiamo fatto Solo un pareggio Alla fine Ci abbiamo preso Un impegno Per l'Europa League Di fare bella figura Cerchiamo di vincerla Però Vediamo Alla fine Cosa succederà Conosci più o meno Le compagini Che fanno Questa competizione Chi temi? Il gatto Il gatto Ho visto che Era mia partita Ha perso Quindi Diciamo che La squadra È la sua Secondo me Comunque C'era pure in Manchester Che è una bella squadra Però Ce la giochiamo Fino alla fine E poi vedremo Spero di incontrare Il gatto in finale Però È il mio sogno Nel cassetto Diciamo Prima di te Hai giocato Il CSK Mosca Contro l'Agagas La tica Se ne andava Guardava Osservava La tua squadra Un po' sconsolato In caso di vittoria Lo manderesti Nel campo piccolo Del Maracano Purtroppo Il destino Ci ha portato a questo Mi dispiace Per Giovanni Però Speriamo che Eh ma non lo so Se l'amico Mi dispiace per lui Sebastiano che ti dice? Sebastiano dice Che non la vinciamo Però Noi cerchiamo di vincere Fino alla fine Però Non fa niente Ci sa ancora qualcuno In questa Aeduk Che può darvi una grossa mano Sì C'è il Saero De Cristoforo Che ci ha mancato stasera E basta Poi c'è il Tommaso Tommaso Miele Che ci ha mancato La nostra forza fisica Però Non fa niente Siamo con Ruggero Leverton vince Contro una delle favorite In questa Champions League Il New Saints Secondo in classifica Leverton che si è qualificato Ai playoff Può dire la sua Questa squadra Sì diciamo Abbiamo fatto il nostro Siamo partiti con il piede giusto In questo girone Ma d'altronde Lo sappiamo I risultati parlano chiaro Dopo il primo inizio di stagione Che è andato male Per i nuovi innesti I nuovi giocatori Leverton si è ricompattato E abbiamo macinato punti Nonostante la maglia Che non rispecchia I colori sociali Purtroppo È sempre questa La maglia L'anno prossimo Ti proponi forse Alla squadra di Salvatore Berluso Nel Napoli No 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 Come detto l'altra volta La maglia è stata regalata Perché Il mio cugino È partito per la Lettonia Voleva un ricordo Dell'Everton La devi indossare Per tutto il torneo Ti ha chiesto proprio lui Sì Sì Questa squadra Sempre rimaneggiata Oggi eravate in Sei o sette Però comunque Mancano ancora I Diciamo I top players Arriveranno Oppure Giocherete voi No Non so A chi ti riferisci Felice Simonetti Solo Felice Simonetti Non è venuto Perché è a Milano E sta disputando Il finale di stagione Di campionato C'è qualcun altro Tipo Pasquale No no Vabbè Siamo rimasti Solo questi otto Quindi Si sette di stasera Più felice Simonetti Otto Questo è l'Everton Quindi una lista Diciamo Piccola Che forse vi Creerà qualche problema In seguito No non credo Perché fondamentalmente Noi sul gruppo Decidiamo sempre Quando mettere la partita Come ci siamo tutti Ma la Champions In casa è fuori casa Quindi potete avere qualche difficoltà Va bene Poi stai gemelli Diciamo a contentare un po' tutti Non sarà sempre facile Va bene Però noi ci proviamo sempre Chi temi della Champions League? Ma del nostro girone Quello che temiamo di più Era comunque Il mio senso È che comunque Si è classificato secondo Il nostro ex giocatore parente Che è venuto ad aiutare Però Aime per lui Ha perso pure Contro la sua ex squadra Del girone di là? È del girone di là Il girone di là È un girone Di Veramente di ferro Perché Anche se Comunque Vedendo le partite di oggi Di stasera L'Arsenal Non l'ho visto Tanto Diciamo Apparato Con gli effetti Al competo Quindi Non so quanto Possa dire la sua Il Trab È una squadra Cigna Ma Penso che Valenza e Inter Sono nettamente superiori Rieccoci in studio Dopo lo spazio E il tempo Dedicato alle coppie europee È il momento Di approcciare La Serie B Che manda agli archivi La diciannovesima giornata Scopriamo con Quali risultati Per l'appunto Per la diciannovesima Leicester contro St. Paoli Termina 8-5 A seguire Salernitana Empoli 3-0 Come anche Parma Contro Olympique Lyon La Fiorentina Vince 6-2 Con il Porto Mentre Sampdoria Ajax Termina 10-4 Per i Blucerchiati Borussia Dortmund Che vince 8-3 Con il Cagliari Mentre il Foggia A ragione Del Cognasport Di misura 5-4 Ne consegue Una classifica Parziale Che vede Al primo posto Il Foggia Con 49 punti A seguire Sampdoria Fiorentina In coabitazione A 45 In virtù Del punto Di penalizzazione Ottenuto Alla terza giornata Da parte Della Sampdoria Ajax A 37 punti Meno 8 Dalla terza Ma più 5 Dalla quinta Cioè Dal Parma A seguire Borussia Dortmund 29 Cognasport 26 Olympique Lyon Che scivola 25 Cagliari Che fa un passo Indietro A 24 Leicester 18 Porto 17 punti Salernitana 16 Sanctpaoli 12 Mentre l'Empoli Arriva all'ultimo posto In virtù del meno 1 E della differenza Negli scontri diretti Con il Sanctpaoli Vediamo anche la prossima giornata La ventesima Che vedrà affrontarsi Porto contro Sampdoria Fiorentina Borussia Dortmund Sfida molto interessante Olympique Lyon Contro Cagliari Ajax Sanctpaoli Empoli Parma Leicester Cognasport E Foggia Contro Salernitana Rieccoci in studio Giorgio Una giornata Che è stata caratterizzata Da due partite Che hanno Poi evidenziato Un passo indietro Per due squadre Stiamo parlando Dell'Empoli E dell'Olympique Lyon In meno 1 In classifica In una classifica Così possono avere Un peso specifico Importantissimo Perché Un dato molto importante È che per esempio L'anno scorso Il Paris Saint Germain Terminò con una penalizzazione Di meno 7 Meno 8 punti Ultimi in graduatori E penultimo Lo Shakhtar Che dopo un buon inizio Poi iniziò a perdere Partite su partite Mentre invece Quest'anno Bene o male Adesso la classifica Inizia ad assumere Dei tratti somatici Ben definiti Ma Di giornata in giornata I sorpassi Sono all'ordine del giorno Ma Sicuramente Le penalizzazioni In una classifica Così corta Possono appunto Definire Di giornata in giornata Quest'ultima Senza riuscire poi A Definirla In maniera permanente No È vero che Nel famoso gruppo Delle prime 4 Si sta staccando Un po' L'Ajax Il ritmo Delle prime 3 È veramente Insostenibile In queste giornate L'Ajax Si è fermato Si stanno Facendo sotto Parma e Borussia E insieme a loro Tutte le squadre Che grossomodo Sono impegnate In quelle In quelle posizioni Che possono appunto Guadagnare poi I playoff Post season Per quanto riguarda La parte bassa E ogni giorno Si cambia Una volta C'è Per dire L'Empoli All'ultimo posto Poi c'è San Paolo Poi c'è la Salernità La giornata dopo Ritorna l'Empoli Quindi Rispetto all'anno scorso Dove due Hai citato il PSG Che Anche in quel caso Una formazione Che ha dovuto Come dire Tirare i remi in barca Abbandonare un po' La loro Situazione In campionato Per il grave Infortunio Capitato al loro Capitano Rispetto a quelle Partite là Quest'anno È difficile Che si arrivi A una penalizzazione Così grave E ciò Ovviamente Va a beneficio Dello spettacolo Perché tutte le squadre Sono in gara Tutte le squadre Sono in gioco Comprese quelle squadre Che attualmente Non vanno a ricoprire Nessun posto playoff Ci sono ancora 21 punti A disposizione Delle squadre Quindi si può ancora Dire tanto In questa classifica Ma soprattutto In questa settimana Ci sarà una mini Sessione di mercato Due cambi A disposizione Di ogni squadra Che potrebbero portare A delle importanti Modificazioni In vista del rush finale È bravo Hai detto tutto tu Perché Due acquisti In questa fase Del campionato Sono Una manna dal cielo Per parecchie società Per parecchie squadre Impegnate in questa serie Dunque Credo che La maggior parte Se non tutte Le società Impegnate in questo Campionato di serie B Andranno a sfruttare I due cambi Messi a disposizione Della Dall'organizzazione Della serie B E quindi Attendiamo Quali saranno Gli sviluppi Dal momento che I giochi Non sono ancora scritti E c'è il suo Fatta per quelle tre Davanti A tutti E Devono fare Bene I conti Le squadre Che vogliono dire La loro in campionato Che vogliono magari Conquistare un posto Nei playoff Devono acquistare bene Leicester che vince Questa giornata Si porta a 18 punti E quindi Rosicchia Punti molto importanti Al Cagliari Ora si trova A meno 6 Circa in graduatoria Ma questa squadra Forte del suo Dinamismo Forse anche Di quella giusta Inesperienza Che ti porta a fare Delle grandi rimonte Oppure a tenere alta La tensione Fino al finale Può arrivare magari Nella zona playoff Che è segnata Dal nono posto In graduatoria Guarda io per Il Leicester Me lo auguro Perché sono una formazione Che l'ho detto Sempre dalle prime giornate È una formazione Che Come dire Rappresenta Un po' Quelli che sono i valori Lo spirito Del Trofeo Jack Quello dell'amicizia Quello dello storio Insieme E quello ovviamente Del divertirsi A prescindere Da come Finirà il risultato Il Leicester Abbiamo Nel corso dell'anno Nel corso di questo campionato Abbiamo Assistito Come Questa formazione Abbia perso Partita all'ultimo minuto O se la si è giocata Contro squadre Molto più forte Dei ragazzi Delle Foxis Mi auguro Che possano dire La loro Nei playoff Perché se lo meritano Mentre invece La Fiorentina Raggiunge Una vittoria Importante Contro il Porto 6-2 Il risultato finale Per una squadra Che ha ritrovato La giusta continuità Dopo un gennaio Un po' difficile Qua per quanto riguarda La Fiorentina Sono stati fondamentali I cambi Il mercato invernale Ha Dato più Che una mano Al team Di Armando Che ha pescato bene Ha preso giocatori Funzionali Alla squadra E I giocatori Le prestazioni Stanno confermando Le buone intenzioni Di questa Fiorentina Che adesso Non si ferma più Parlandone con Armando Nel post partita Contro il Porto Non è mai facile giocare Perché i ragazzi Del Porto Veramente danno l'anima In ogni partita E loro Sono un'altra squadra Ritornando al discorso L'Eichester Che rappresentano Appena i valori Del trofeo Giacco Gruppo di amici Che si mette In gioco Contro squadre Magari più forti Magari Squadre che vogliono Portare a casa Il campionato Se la giocano Sempre a viso aperto Magari Escono dal campo Un po' nervosi Quelli del Porto Perché hanno perso La partita Però sono sicuro Che Nei In quei 50 minuti Ogni singolo elemento Dei Lusitani Dal massimo Ha dato il massimo Da il massimo Anche forse Con qualche Calcetto Come dimostra Anche la giustizia sportiva A volte arrivano Squalifiche Per somma di ammunizioni A tempo record Difidati a Gogo Questo è vero Questo è vero Difidati a Gogo Uno dei quali Mi viene proprio uno a caso Vincenzo Nappi Che saluto Però fa parte Della loro filosofia Di gioco Non gli si può dire niente Gli si può dire Sì Cavolo Tu mi stai distruggendo Le gambe Però fa parte Del gioco Fa parte Della situazione Al termine del 50esimo Una stretta di mano Una Gatorade Per tutti E si continua A essere amici Borussia Dortmund Che vince contro il Cagliari Una vittoria Importante Perché ottenuta sul campo Da una squadra Che ultimamente Non stava brillando Tutt'altro Anzi Rispetto al Cagliari Che stava Classico oramai L'andamento del Cagliari Quello là Altalenante Una volta si vince Una giornata buona e due No Una giornata si perde 11 a uno L'altra giornata si vince 9 a 8 In rimonta Oramai 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 penso si sia capito L'obiettivo del Cagliari È quello di partecipare A playoff A prescindere Da quale sia la posizione Almeno credo Poi i ragazzi del Cagliari Mi smentiranno Qualora Io mi fossi sbagliato Ma È una sfida importante Per entrambe le formazioni Per Confermare Un po' Lo stato d'animo Di entrambe le squadre Il Borussia Dortmund Ha avuto ragione Del Cagliari Significa che I ragazzi gialloneri Volevano la vittoria Più dei ragazzi Satti In conclusione Il Foggia che vince 5-4 contro il Cognaspor Sette uomini In distinta Per il Foggia Solo cinque effettivi Sul campo A causa del Concorso Insomma Fra partite di L'Europa League Champions League E Serie B E in cinque contati Per la seconda giornata Il Foggia Strappasi la vittoria Ma solo Praticamente Alla fine della gara Dopo che Cognaspor Nel secondo tempo Ha piazzato Un parziale Di 4 reti a 1 Questo significa Che forse Prenderla troppo Alla leggera Contro squadre Di medio-bassa classifica Può portare punti Ma in alcune sfide Bisogna un attimino Regolarsi meglio E beh Se hai detto Hai detto giustamente Che Affrontare Quelle squadre In medio-bassa classifica Con I soli cinque uomini Non spesso Può portare A risultati positivi In questo caso Il Foggia Si può dire È stato fortunato Contro Un Cognaspor Che è sceso in campo Con il coltello tra i denti È chiaro che Per quelle squadre Che non se la passano Ben in campionato Affrontare la prima Della Della classifica La prima della graduatoria È motivo di Come dire Di impegno Esatto Si 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 impegnano Al massimo Così come è capitato All'Ajax Quando era al primo posto Che si affrontavano Squadre Sempre come dire Sempre a parate Otto nove elementi Addirittura Non è stato Voglio dire Non è questo il caso Del Foggia Perché Sono andati in cinque L'anno Nel secondo tempo Hanno rischiato Addirittura di perderla Quel gol Nel finale di partita È stato Decisivo È stata una liberazione Per i ragazzi rossoneri È uno smacco Invece per il Cognaspor Che Guadagnare un punto Contro la prima In classifica È molto molto importante Soprattutto lo stesso Cognaspor Che settimana precedente Aveva pareggiato 7-7 All'ultimo minuto Contro l'Empoli Rischiava di perdere Una partita contro Una squadra Che è indietro Di 12-13 punti Quindi Il Cognaspor Ha qualcosa da recriminare Perché Questi punti Hanno un peso specifico Differente A seconda dell'avversario Con cui li ottieni O con cui li perdi Esattamente Proprio per questo Che Il punto Si può dire Guadagnato Però forse Due punti persi Contro l'Empoli Il punto perso Questa giornata qui Può pesare Anche per quanto riguarda La psiche Della squadra Del singolo giocatore Che magari Si impegnano I ragazzi Affrontano Al massimo Delle loro potenzialità L'avversario Ma poi Il pallone Non entra E ai giocatori Avversari Basta un'azione Per fare golle Questo poi Alla lunga Pesa Abbiamo analizzato Tutte le situazioni Principali Del torneo cadetto Alla termine Della diciannovesima Giornata Di serie B Adesso è il momento Di spostarci Idealmente Al centro sportivo Maracanà Ci sono gli highlights Con i gol di giornata E soprattutto Le interviste Ai protagonisti Raccolte direttamente Nei post match Dopo apriremo L'ampio spazio Per i tornei paralleli Che stanno approcciando Anche loro La post season Alla vigilia Della mini sessione Di mercato Che evidenzia Già i primi Possibili colpi Il campionato cadetto Del Jack Crea una classifica Dai tratti somatici Sempre più definiti Vince Prendendosi Qualche libertà Di troppo Anche in questa tornata Il Foggia In cinque uomini Contati I rossoneri Riescono ad arginare Il ritorno Del Cognaspor Nella ripresa Refertando Il 5 a 4 finale Sugli scudi Anche la Sampdoria In uno scontro diretto Con l'Ajax Mai messo seriamente In discussione Dai lancieri Questa è una chiave Di lettura importante Del campionato Perché grazie alla vittoria Della Fiorentina Contro il Porto Forse i bianco-rossi Sono chiamati A rinsaldare La propria posizione Ed ottenere Uno scontro favorevole In sede di playoff Post season Medesimi risultati Anche in questa giornata Per Borussia Dortmund E Parma Vincono entrambe Giallo-Blu a tavolino Contro l'Olympique Lyon Mentre il Dortmund È arrivato Per una buona vittoria 8 a 3 Il finale Contro il Cagliari In piena crisi Di risultati E che rischia Di scivolare via Dalla zona Playoff Il Leicester Trova dei buoni punti Nella partita Vinta col Sanct Paoli Mentre la sconfitta A tavolino Lascia scivolare All'ultimo posto Lempoli In questo caso A gioire E la Salernitana Siamo qui con il Borussia Dortmund Stasera Anche se vi maneggiate Avete fatto un'ottima vittoria Contro un Cagliari Che più o meno Vi accompagna In classifica Una squadra Come voi È metà classifica In zona playoff Sì Era da pareccio Che non vincevamo È stata una vittoria Importante Volevamo vincere Perché era da pareccio Che non facevamo Un risultato Utile E ce l'abbiamo messa tutta Abbiamo comunque Molti infortunati È un periodo Un po' nero Spero di arrivare Almeno Ai pre-off Con Con un po' di benzina Nelle gambe Perché siamo un po' A riserva Avete rischiato Fino alla fine Di giocare in quattro Stasera Poi avete trovato Sesso sul terreno Sul campo Un quinto giocatore Che da come ho capito Inserirete anche La settimana prossima Nella lista Effettiva del Borussia È stato un acquisto Mi piace Sì sì È stato un acquisto Last minute Infatti l'abbiamo valutato È un bravo ragazzo E comunque Quello cerchiamo Noi dobbiamo divertirci Al di là del valore tecnico Del giocatore Vediamo prima Il profilo Caratteriale Sì Se può essere Un nostro amico Cioè Vincere non è importante L'importante è che L'unica cosa che conta Quella è della Juve Vada a casa Un altro slot Quindi disponibile Per l'ultimo cambio Perché un cambio Ce l'avete fatto Avete già in mente qualcuno Oppure non vi muoverete C'era un altro amico nostro Antonio Che comunque è un mio amico D'infanzia L'esposito? No, no Iorio E quindi penso che Può entrare tranquillamente A far parte del nostro gruppo Anche lui non ha Un bravo ragazzo Tecnicamente È come noi Quindi è scarso come noi Può stare con noi Non è un problema È in pericolo la zona playoff Oppure Una posizione molto Non lo sappiamo Perché noi siamo una squadra Che abbiamo iniziato Da Real Madrid Finiremo da Pescara Vi vedete in Serie A L'anno prossimo? Speriamo Il campo è un po' grande Meglio restare in V Però Per te va bene Le misure sono giuste per te Sì, sì, vabbè Ci rilasseremo di più Nel campo grande Rieccoci in studio La puntata sta per volgere al termine Ma è il momento Di dare spazio E soprattutto Angolo di riflessione Anche per la Coppa Libertadores Vediamo le grafiche I risultati per questa giornata Parlano dell'International Che vince 8-6 Con l'Atletico Minero Mentre il Flamengo Contro il Corinthians Termina 10-7 Per una classifica Che vede al primo posto Il Flamengo Con 6 punti International e Corinthians 3 punti Ma l'International Una partita in meno Come anche il Santos Che ha 0 punti Con una partita Che deve ancora giocare Mentre l'Atletico Minero Si trova a meno 1 Giorgio Una situazione in classifica Che sta iniziando A delinearsi Insomma Però Questa situazione Di ogni squadra Che osserva un turno Di riposo All'interno Dell'intero calendario Finisce per creare Delle situazioni Difficili da decifrare Soprattutto perché 3 punti in ballo Possono fare la differenza Pure per chi si trova A 0 adesso Esattamente Vedi proprio Hai detto bene La situazione del Santos Che ferma a 0 Con una vittoria Potrebbe agganciare Quello che è il treno Di testa Vediamo adesso La classifica Come questo Flamengo A 6 punti Si ha Abbia Sicuramente Affrontato bene Le due prime partite Questo postseason Merita il primo posto Però dietro Ci sono squadre Come l'International Che a 3 punti Con l'ipotetica vittoria Nello scontro Nella partita Da recuperare Subito Potrebbe insidiare Il Flamengo Così come il Santos Potrebbe agganciarsi Al treno Di quelle squadre A 3 punti Vedo adesso L'Atletico Minero Tagliato un po' fuori Perché dopo La sconfitta A tavolino Avrebbe dovuto Confermare Tutto quello Fatto Positivamente In campionato Ma adesso È ultimo Con questo Menù 1 Forse Nella Coppa Postseason Ci sono altre squadre Che trovano Le giuste motivazioni Per rinfrancare La propria stagione Dopo una regular season Che magari Ha visto vincere Qualcun altro Esatto Magari è il caso Dell'Atletico Minero Avrà deciso La filosofia Di questa squadra Sarà quella Di lasciare spazio I giocatori Meno impegnati In campionato In quella che è stata La cavalcata Trionfale In campionato Rispetto a quelle squadre Invece Che hanno dovuto Subire la vittoria In campionato Dell'Atletico Minero Adesso si impegnano Come dire Mente e corpo Nella conquista Del postseason Questa è la situazione Nella Coppa Libertadores Passiamo rapidamente Anche ai playoff Dello sponsor Jack Nel girone A Pezzereniello Contro Drinkol Quattro pari Mentre non c'è due Senza tre Contro Eni Cinque Due Bidionola Ragione di Brucos Pizzi Nove Otto Mentre Spagna Columbus Termina Tre a zero Contro Feudo 86 Ne consegue Una classifica Che vede al primo posto Nel girone A Non c'è due Senza tre A punteggio Praticamente Quasi pieno Insomma Sei punti Finora Mentre Pezzereniello Ne ha cinque Drinkol Quattro Ed Eni Uno Nel girone B C'è forse meno Equilibrio Con Videonola In fuga Punteggio pieno Nove punti Per la compagine Che gioca in casa In questo studio Televisivo Brucos Pizzi Contro Espagna Columbus Che si gioca Nel secondo posto Con quattro punti Entrambe Mentre Feudo 86 È tagliato fuori A zero punti E molto probabilmente Giorgio Purtroppo Resterà così Fino alla termine Di questa post season Mentre Invece Notiamo Che nel girone A C'è molto più Equilibrio Sì Nel girone A C'è molto più Equilibrio Tutto in gioco Nonostante i risultati Negativi per Eni Che Si può dire Nella prima giornata Ha conquistato un punto Ma in realtà Ne ha persi due E Un pareggio Che va stretto I ragazzi di Eni Che oramai Si è spenta la luce Si può dire Eni Gas e luce La luce si è spenta E Il resto del girone Oppure sono senza Benzina in corpo Senza Benzina in corpo Deve Andrea Mutascio Deve Obbligatoriamente Far fare rifornimento Ai suoi Che sono forse Un po' stanchi Stanno patendo le fatiche In campionato Ricordiamolo Eni Un campionato Di tutto rispetto Mentre Il postseason Non è sicuramente Rispettabile Anche se Ha beccato un girone Abbastanza duro Quello A Per quanto riguarda Per quanto riguarda il girone B La cenerentola Di questo girone Feudo 86 Che oramai Concede punti A destra e a sinistra E Il Canovaccio Di questo girone Pare già scritto Con Bruco Spizzi E Spagna Columbus Che si giocheranno La seconda piazza Video no Lo vedo Lanciato Verso il primato Del girone B E Feudo 86 Come giustamente Detto tu Tagliato fuori Non vorrei Che Eni Nel girone A Faccia un po' La fine di questo Feudo 86 Diventando la cenerentola Del girone A Sarebbe un peccato Per i ragazzi di Eni Che hanno fatto bene In campionato Hanno fatto bene Più o meno In questo postseason Ma devono forse Maturare Per quanto riguarda L'esperienza C'è da dire che C'è differenza Nel fare l'ultimo post Nel girone A Rispetto a farlo Nel girone B Ma un altro dato Importante Di questa postseason È l'altissima percentuale Di pareggi Che si ottengono Rispetto alla regular season Dello sponsor Jack Ma rispetto All'andare proprio Totale Del calcio a 5 È vero Questo è verissimo Il pareggio è sempre Un risultato strano Un risultato che non si vede sempre Dal momento che Nel calcio a 5 Ma penso In qualsiasi altro sport La vittoria È quello che conta Però proprio statisticamente È più difficile Ottenere il pareggio È vero Non ci sono poi Gli overtime Come magari Nella Palla a canestro Ma rispetto Al calcio a 11 È molto più difficile Portare questa situazione Di equilibrio Fino poi Al fischio finale E ciò significa Che secondo me Come è strutturato Lo sponsor Jack È un campionato Estremamente equilibrato Dove Chi ne ha di più Alla lunga Riesce poi A giudicarsi Il trofeo A giudicarsi Il titolo E magari Eni Nello specifico Non è riuscita Non tantomeno Con le gambe Diciamo Ma con la testa Non è riuscita A mantenere Quello che è La tensione Rispetto a delle squadre Più esperte Come Non c'è due senza tre Che lo conosciamo bene In una formazione Che mastica Oramai Lo sponsor Jack Da anni Quindi C'è bisogno Sicuramente Da lavorare Per questo Ma sono fiducioso Nei confronti di Eni Classifica alla mano Videonola È innegabile Nasconderlo Sarà protagonista Delle semifinali E poi forse Dell'eventuale finale Ma nel girone A Chi possiamo pronosticare Come protagonista Poi Ma nel girone A È vero che Già le partite Sono in svolgimento Se non sbaglio Questa è la terza O la quarta Addirittura giornata No Questa è la terza giornata Quindi Un po' Si sono già In essere Se così possiamo dire Ma Nel girone A È molto complicato Decifrare Definire Una Ipotetica Preferita Un'ipotetica Squadra Che spacchi Questo girone Bisogna aspettare Ancora qualche altra partita Sperando Magari Sono ripetitivo Nella rinascita Di Eni Che magari Gli attaccano Poi contatori Così Si può far luce In questa situazione Diciamo che Dobbiamo attendere Un paio di giornate Per un po' Tutti i tornei Attualmente impegnati Nella post season E sapremo già Dei verdetti Importanti Per ciò che sarà La primavera del Jack Esatto Perché L'equilibrio L'ha fatta da padroni In grosso modo La maggior parte Dei Campionati Delle competizioni Firmate Trofeo Jack Sia Per quanto riguarda La regular season Ma anche questo post season Ciò significa Che lo spettacolo Al centro sportivo Maracanà È abbondante Siamo in chiusura Di trasmissione Giorgio Grazie per i tuoi contributi E appuntamento A settimana prossima Giando Un saluto a te E un saluto Jack Buon Jack A tutti